Preoccupano le condizioni di degrado della chiesa di Santa Maria, tanto che i vigili del fuoco, appurata la situazione, hanno chiuso di interdetto tutta la zona del primo piano, in linea con la facciata laterale su un lato e sul chiostro dall'altro. Le ultime piogge hanno peggiorato una situazione già tragica a causa di crolli di parti di tetto e infiltrazioni, dove toppi e piccioni hanno eletto la loro dimora da molto tempo, oltre alle poze d'acqua accumulate durante le piogge. Innumerevoli le creppe che stanno mettendo in serio pericolo la stabilità della struttura, tanto che lo storico organo della chiesa non può più essere suonato perché le vibrazioni delle canne potrebbero addirittura compromettere ulteriormente l'edificio di culto. Interdetta anche tutta la zona del conventino cinquecentesco che diede dimora a padre Zirano e che ebbe il suo ultimo restauro nell'Ottocento e che ultimamente si stava cercando di recuperare internamente. Purtroppo la facciata ha iniziato a cedere e sembrerebbe sia ancora in piedi solo grazie alle grosse catene, ma è visibile a occhio nudo un'evidente stroflessione. All'interno si notano i crolli del tetto, le creppe sulla facciata e il distacco del pavimento. Appare sempre più urgente un intervento da parte delle autorità competenti non più rimandabile.